E' il suo, 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 e' il suo. Siamo nella palestra del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia, qui con noi è la professoressa Daniela Giarratana, che storicamente segue i ragazzi del liceo e non solo, anche nella palestra del lobe sport. Nel 1984, il primo carnevale floridiano storico coreografato e da lì nacque la tradizione della coreografia nel carnevale floridiano. Ok, prima di andare avanti con il liceo scientifico e con la sfilata di quest'anno, allora io ne approfitto, perché siamo curiosi, di sapere qualche cosa, un aneddoto, qualcosa che ricordo in particolare di quegli anni. Ne ricordo tanti, però in particolare il primo fu fantastico, perché pur di farlo noi praticamente abbiamo messo delle casse sul tettuccio della macchina del professore Paolo Quattrovani, che fu un mentore eccezionale da ricordare sempre, e siamo partiti così all'avventura con queste casse per fare musica con la batteria della macchina, alimentate dalla batteria della macchina e abbiamo coreografato per tutta la strada ed è stato fantastico e fu l'inizio di un'epoca. Veniamo ad oggi, stiamo preparando le coreografie per la sfilata di domenica e di martedì. Cosa ci dice? Qualche chicca? Qualche anticipazione? Come sempre il liceo scientifico cerca di lanciare dei messaggi didattici, diciamo abbiamo fatto la Divina Commedia, abbiamo fatto la letteratura, le scienze e questa volta è un tema sociale, cioè vogliamo un pochino occuparci dell'Oriente, visto quello che sta succedendo in questo momento. Ovviamente lo faremo in maniera allegra, divertente, però ci sarà anche qualche cosina che è importante secondo noi. Noi vogliamo dare voce a chi non ha voce, vogliamo dare voce alle donne in particolare. Ci sono tantissime ragazze in questo gruppo mascherato e vabbè, non diciamo troppo, non anticipiamo troppo, però sicuramente è una cosa a cui noi ci teniamo tanto. L'entusiasmo delle ragazze è sicuramente tanto. L'entusiasmo delle ragazze è enorme, io pensavo, ero entrata sotto tono, sono in pensione da quest'anno, e dico vabbè, i miei colleghi me l'hanno chiesto, iniziamo, alla prima riunione eravamo 150, quindi ho detto vabbè, ok. Una collaborazione di colleghi? Molta collaborazione dei colleghi da sempre, devo dire, molta disponibilità della dirigente scolastica che ci sta facendo allenare di sera qua in palestra. Devo dire che i ragazzi hanno bisogno di questi momenti, quindi noi ci siamo prestati volentieri a farli contenti, a farli divertire in maniera sana, in maniera propositiva. Loro sono contentissimi di stare qui, stare tutti insieme, dopo il Covid specialmente, allenarsi insieme, fare insieme qualcosa di interessante, di divertente, ma anche di utile. Grazie a tutti.